L'elicottero che arriva sopra la piscina di Morigia a gallarate e i soccorritori che si calano con il verricello mentre a terra è già all'opera l'equipaggio dell'ambulanza. Sono alcune immagini di lunedì pomeriggio quando un bambino ha perso coscienza dopo essersi tuffato in una delle vasche all'aperto della struttura. Ero terrorizzata, ho portato lontano le mie figlie mentre veniva praticato il massaggio cardiaco, per qualche minuto non ho avuto la forza di guardare, racconta Maria Grazia che si trovava all'amoriggia con la famiglia. Suo marito Roberto di professione odontoiatea ha dato supporto al bagnino per rianimare il ragazzo. L'ho girato sul fianco, spiega la donna, il bimbo avrebbe vomitato e piano piano ha ripreso i sensi. Da madre prosegue la testimone, immagino se fosse successo le mie figlie. Ci farebbe piacere metterci in contatto con la famiglia per sapere come sta il ragazzo. All'origine del malore, secondo alcuni testimoni, potrebbe esserci lo shock termico dovuto alla differenza di temperature tra dentro e fuori l'acqua. Il gestore della piscina, Emilio Bonzanini, ricorda i rischi di un tuffo repentino quando fa caldissimo. L'assistenza ai bagnanti ha funzionato, ricorda l'operatore. Il ragazzo avrebbe dato segni di ripresa prima dell'arrivo dell'elicottero.